Anche io devo dimostrino, risposta, bella risposta, che coraggio, complimenti, credi che io sarò un abitagliatore dello Stato, non lo dimenticare, con onore, e non ho paura, e non ho paura, la verità mi fa male? Beh, o meno, a me mi fa onore, ce l'ho nelle mani, pure che me l'hai ignorato, io ce l'ho nelle mani, e ce l'ha il Presidente della Repubblica, in mano, a quel signore ti ho chiesto aiuto l'altro giorno, ha fatto ridere i soldati che vuole dimagrire pure lui, beh, che me lo faccia sapere, ci mettiamo qua, c'è problema, ben tranquillo e sereno, così quando si muore, si muore in due persone, non fa più scattore, così arriva poi la RAI, RAI 1, RAI 2, RAI 3, tutte le altre nazionali, che fanno finta di non vederci, beh, siamo vite umane qua, aspettano il politico, perché solo il politico può bollare in quella televisione, e poi volete il canone, quale canone? Perché io non posso bollare in quella televisione?